www.feyyaz.tv Cosa c'è? Vieni a cazzo con me la tasta! Vieni! Tu sei un bastardo! Tu sei un bastardo perché tu mi hai spinto tutti i cosi Palloncini! Però che mi è rimasto tutto qui! Si fa l'ultimo con questo no! Questa è la cucina mia normale! Un pochino ma è rimasta così però va bene uguale! Bye! Ciao ragazzi presto fuori il video! Viva gli sposi! Aspetta aspetta! Ciao! Si presenta un altro che so! E' il prete Don Camacho Che si sta preparando con le forcine Per vedere il vestito a festa Qui ci sta lo sposo E la sposa Paggiamo! Ci sono messi a disposizione Insomma si inizia abbastanza bene Si spera e... Inizia! Se ne mettiamo un po' di lasso Non c'è Bene! 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 Mi raccomando se vi trovate la camera Per favore Stai andiamo a prendere Ho paura Ho paura Ho paura Stasera Qui ci inizia Questa è la piatta evitata IBM Prisa Peppi A Ho paura E Africano Non Amn Non 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 ciao figlioli presto fuori video viva gli sposi oh 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 si oh 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 hey e oh 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 questi applausi spontanei sono belli davvero questi applausi spontanei sono veramente belli grazie 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 grazie